ah no questo lo facciamo dopo questo lo facciamo dopo vediamo questo qua daniele 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 35 anni da milano dove sei daniele eccola guarda come ti tocca andare là sopra mai vai vai raggiungilo ma questa è una curiosità per me daniele stand up stand up yes ciao ciao daniele come stai tutto bene tutto bene se guarda se sei o sei troppo alto non abbiamo calcolato le luci fin la sopra puoi stare no allora seduto è troppo puoi stare in squat per favore per non in scuola ok lì in squat finché non ti bruciano le gambe stai lì così ok come stai daniele tutto bene tutto bene la tua domanda la domanda che hai deciso di farmi è tritti trasferiresti a new york bella no perché vuoi saperlo è perché ci sono stato due volte mi è sempre piaciuto ah ok allora sì lo sai che è cara come il fuoco però eh lo so cioè andare a vivere là è un disastro però è in realtà la città nella quale ho ambientato il mio piano b se dovessi andarmi male questa questa carriera o se dovessi stufarmi a un certo punto di questa carriera vorrei andare a new york e fare due cose la prima è il dog sitter no no vi ridete ma non sapete quanto prendono i dog sitter a new york probabilmente dog sitter la mattina sveglia presto sette tra le sette le nove posso a prendere tutti i cagnolini e vado in giro per new york con i cagnolini come una di sex and the city vado in giro vado in giro così e poi allenatore per bambini di calcio nel tardo pomeriggio lavoro tre ore al giorno guadagno il doppio che qua non è vero non è vero non è vero ma poi non potrei mai come potrei fare almeno di voi ragazzi non posso fare almeno di voi nella mia testa sto pensando ma potremmo fare perdonami con roby williams in questo vero è quello quello che stavo pensando in questo momento questo stefano stefano 55 anni da barma provincia di parma eccolo la eccolo la stefano oggi ti fanno correre mike deve essere la punizione per il david di michelangelo secondo me quest'anno non mi va di suonare alla messa di natale un sole alla messa di natale si da tanto che bello cosa suoni le canzoni quelle che servono soldi quelle lì di tradizionali cosa suoni intendevano che strumento la chitarra alla chitarra oratorio sì va bene perché ultimamente le chiese stanno aumentando un po no il no c'è prima era sempre solo organo fanno entrare ogni tanto vedo anche delle batterie o dei tamburelli vero stanno un po abbiamo anche noi puoi chiedere a qualche ospite se mi vuole sostituire allora secondo me robbie no emma temone me gli street forse noi degli street cosa fate cosa fa belle solite camminerò camminerò la fate per una natale però sia bene va beh non si fa natale che cosa di male camminerò contro contro la natale siamo un po più tradizionalisti pargo il divino ma devo dire che non abbiamo ancora fatto quest'anno camminerò che un po una nostra it quindi secondo me è il momento per fare camminerò vai tutti insieme chi la sa forza camminerò no aspetta ah siamo già lì vai per la tua strada signor vai seconda strofa quando ero solo solo e stanco nel mondo quando non c'era l'amor poi non me la ricordo più va bene possono andare possono andare ok possono andare possono andare vediamo il prossimo come vai come vai così alla buona diciamo ok no io chiedo per gli street chiedo per gli street ciao